Io continuerei parlando ancora di Milano, secondo lei che ruolo ha svolto questa città nello sviluppo della scena letteraria e culturale italiana? Qual è secondo lei invece la situazione odierna? Milano era ed è tuttora la capitale dell'editoria, però l'editoria una volta era più dentro la città, ma direi anche fisicamente, le grandi case editrici stavano nel centro della città, chi si occupava di cultura e di letteratura frequentava le case editrici, adesso sono diventate per lo più delle grandi fabbriche di libri nei sobborghi o addirittura fuori città, quindi i contatti sono diventati anche più difficili e poi c'è stata un'evoluzione in senso probabilmente indispensabile o comunque fatale, insomma c'è stata un'evoluzione verso la razionalizzazione commerciale, quindi hanno perso peso all'interno delle case editrici gli uomini di cultura, contano di più gli uomini del marketing, quindi uno scrittore che continua a pubblicare i suoi libri dal suo editore però ha meno dialogo, questo è uno degli aspetti, poi si sono perse molte abitudini preziose, l'abitudine per esempio di trovarsi fra scrittori letterati e anche artisti in certi luoghi deputati, caffè, eccetera, questa è una cosa che si è completamente persa e quindi ciascuno finisce da essere molto più solo di una volta, ci sono molto meno occasioni di frequentarsi e di scambiare idee, una volta quando usciva un libro direi che si formava rapidamente un'opinione prima ancora che uscissero le recensioni sui giornali, adesso questo non avviene perché non se ne parla più in qualche modo, non se ne parla più privatamente e poi negli ultimi tempi penso ci sia da lamentare il fatto che si investe molto meno nella cultura, le amministrazioni pubbliche investono meno nella cultura, non c'è dubbio, hanno questione di bilancio, lo sappiamo, però non si capisce perché le prime voci da tagliare siano sempre quelle della cultura. Secondo lei, in quest'epoca dominata dalla comunicazione via sms ed email, c'è ancora voglia di poesia e di letteratura soprattutto da parte dei giovani? Io credo di sì, paradossalmente anzi questi nuovi mezzi di comunicazione che in qualche modo fanno pensare a dei linguaggi simbolici, così come d'altra parte la passione per le canzoni, ecco tutto questo esprime un bisogno che è vicino al bisogno della poesia, certo i mezzi con cui questo bisogno viene soddisfatto sembrano degli altri, però credo che poi tutto risalga a una domanda profonda, una domanda interiore, questa domanda profonda e interiore probabilmente c'è ancora, quindi credo che in futuro potrebbe esserci se si ristabiliscono i contatti, se la poesia viene recepita in tutto il suo significato che non è quello impositivo, culturalistico che la scuola magari può far pensare, ma è un significato molto più lieto anche, comunque più legato alla vita sentimentale, alla vita affettiva e qui credo che il contatto si possa ristabilire. D'altra parte ci sono molti giovani che si avvicinano alla poesia, ci sono molti giovani che vogliono scrivere poesia, sono purtroppo molti di più quelli che vogliono scrivere di quelli che vogliono leggere, ma anche qui è questione forse di trovare dei canali di comunicazione. Lo scorso 28 aprile lei ha ricevuto il premio Librex Montale, cosa ha rappresentato per lei e qual è il suo rapporto con la poesia del grande Eugenio Montale? Il premio ha rappresentato ovviamente una grande gratificazione, nel senso che il premio da quando esiste è diventato subito ed è rimasto il premio più prestigioso di poesia che esista, basta scorrere l'elenco dei premiati per capire che veramente ci sono tutti i nomi che contano e quindi aggiungermi a questo elenco è una soddisfazione, è un piacere. Montale è uno dei grandi riferimenti della poesia del Novecento e quindi anche della mia, non c'è dubbio. non si può non essere montagliani, così come Croce diceva che non si può non essere cristiani, fa parte della nostra cultura, fa parte del nostro linguaggio, insomma io amo di più il primo Montale, anzi direi che amo quasi sicuramente il primo Montale intendendo il primo Montale quello che va dagli ossi di sepia alla bufera. Il Montale ultimo che pure è mero per la sua intelligenza e brillantezza, mi sembra un po' un appendice alla sua grande storia, però non c'è dubbio che Montale è un riferimento ineliminabile dalla poesia italiana. Avrei un'ultima domanda, durante la cerimonia di premiazione lei ha letto un estratto del suo ultimo libro intitolato Barlumi di storia, come mai ha scelto proprio quel pezzo e in questo pezzo oltretutto si scorge una certa componente religiosa, quanto è importante per lei la religione? Dunque per quanto riguarda la scelta non la ricordo nemmeno più e credo sia stata abbastanza casuale, avevo il libro in mano, ho cercato delle poesie che in quel momento avevo voglia di leggere, che mi sembravano adatte a un tipo di comunicazione come quella della lettura orale. Per quanto riguarda l'aspetto religioso, il filone religioso nella mia poesia, direi che esprime un mio atteggiamento di fondo che è quello di una sensibilità alla religione, non posso dire di essere in possesso di una fede religiosa, ma ho questa apertura verso il problema della religione e questa sensibilità aperta e quindi ogni tanto mi viene fuori. Qualcuno mi ha chiesto una volta se mi ritenevo cattolico, se mi ritenevo cristiano e ho detto fondamentalmente un non ateo, ho i conti aperti con questo problema e se si hanno dei conti aperti con un aspetto così importante del pensiero e della sensibilità è chiaro che nella poesia prima o poi viene fuori.